Pescatori siciliani mitragliati dalla Guardia Costiera Libica in acque internazionali. Erano a 94 miglia a nord di Misurata. Nessun danno agli uomini, ma la barca è gravemente danneggiata. I libici, che oltretutto usano imbarcazioni donate dall'Italia, sarebbero saliti a bordo e sequestrato le schede dei telefoni satellitari. Una questione delicata, perché l'incidente non è un caso isolato e il mare, di fronte alla Libia, sembra un campo di battaglia. Non c'è accordo internazionale che tenga. In Libia ci sono sostanzialmente due governi. Quello di unità nazionale, riconosciuto dall'Italia, dall'Unione Europea e dall'ONU, che controlla la capitale Tripoli ed il nord-ovest del paese. L'est e varie altre zone ricadono invece sotto l'autorità di un governo parallelo, del generale Khalifa Haftar. Le due forze si dividono o si contendono anche i mari.